sono zitto aspetto aspetto che vi connettiate ragazzi oggi sono un po' un po' amareggiato vi dico la verità saluto Asia Santoro facciamo i soliti saluti di inizio diretta saluto Pandio Fabrizio Filomena Vandaforte Gerardo D'Angelo Gabriella Sciret ciao Gabriella Sonia S saluto Benedetto Bruno grande attivista di Paternò saluto Frank Diluppi Mari Misi Mariella Musso ciao Mariella saluto Edoardo Marcello Marziale grande tu grazie Maria vi scuso siamo già 830 saluto Diego Palasciano ieri abbiamo iniziato dicendo aspettiamo di essere un po' di più e poi in realtà eravamo ho iniziato che eravamo 1500-1700 e poi in realtà siamo arrivati a numeri enormi per i quali anzi vi ringrazio e quindi aspetto ancora un po' Asia Santoro ciao i miei messaggi di legge mi sembra di sì ciao a Domenico Turillo grande nostro attivista della costa ionica che in realtà sta un po' fiume freddo riposto Zafferana ci Sant'Antonio si muove come un pazzo perché è un vero attivista saluto Francesco Todaro Davila Abbate Massimo Passarelli Mario Sciacca Gaspare Gullo Giordano Droghini Orazio Mio grazie saluto Cesare buongiorno Francesca Leace Mario Sciacca da Valverde Valverde dove fece un famoso servizio delle Iene che fece dimettere il capo dei vigili che era un po' un tipo un po' particolare finito il servizio prima ci ha minacciato di querele poi si è dimesso questo capitava spesso alle Iene minacce di querele e dimissioni saluto Greta Vallone saluto l'amico Mirco Dentici Raffaele Di Pede Asia che cosa mi hai chiesto? hai mandato un messaggio in privato Asia Santoro che è una grande amica attivista campana se ci sono problemi sono qui saluto Doriana Servillo Antonio Raimondo Cossa c'è qualcuno di voi in particolare Francesco Todaro che mi chiede se è vero che Basentini sia stato messo in una task force di Conte siccome è una notizia che è uscita soltanto in uno strano sito che si chiama mi sembra penitenziaria.it quindi non ho conferme caro Francesco Todaro allora Antonella Vianello sono preoccupata per il nostro ministro Bonafede mi puoi tranquillizzare caro Antonella io non penso che passerà mai la mozione di sfiducia a Bonafede saluto Franco Sardo saluto Riccardo Mureddu non mi ricordo chi di voi mi ha scritto Cinzia Di Gio chi di voi mi ha scritto se credo che il covid sia legato al 5G no ragazzi non lo credo assolutamente non crediamo a delle leggende sul 5G aspettiamo la sperimentazione lo dico sia per quelli che vogliono che il 5G vada alla grande sia per quelli che credono che il 5G distruggerà l'umanità io non credo né all'una né all'alta tesi scusate nell'una né all'alta ipotesi e voglio verificare tramite una sperimentazione clinica che spero di poter anche promuovere proprio nella città di Catania se è come insieme al CNR se è come il 5G può nuocere o meno saluto Giovanni Angemi saluto Stefano Sarcinelli la nostra Lidia Adorno saluto Luciano Rossi grazie alla Rocca sì ragazzi saluto Nella Oddo sono un po' amareggiato perché come 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 potete immaginare sto subendo delle pressioni molto grandi e io sono una persona libera e non amo subire pressioni e quindi è un momento un po' particolare sono indeciso se fare o meno determinate cose perché sto subendo troppo troppe pressioni Asia ti chiedo scusa Asia Santoro se non ti è ancora arrivata una risposta mi sembra strano e quindi proverò a risponderti appena finiamo la diretta semmai riscrivimi non so se hai anche il mio numero di telefono nel caso scrivimi su Whatsapp grazie Stefano Santoro grazie Alessandra Puscedo come ti ho detto non sono preoccupato per quel che riguarda Bonafede anzi vi consiglio di andare a vedere oggi l'intervento in Parlamento di Bonafede che mi è sembrato assolutamente ben fatto peraltro vi dico che oggi c'è stato un nuovo blitz contro la mafia si parla tanto di queste scarcerazioni come se fossero dovute al che fossero colpa o scelta peggio del governo o del ministro cosa falsa non è così e invece sarebbe bene assolutamente è stato giusto parlare di queste scarcerazioni il governo si è mosso facendo due decreti che le renderanno molto più difficili credo che abbia fatto bene e che potranno anche rivalutare eventualmente le scarcerazioni già effettuate e poi oggi c'è stato invece un blitz antimafia dove sono state arrestate tante persone mi sembra di aver capito c'è coinvolto un ex concorrente del grande fratello addirittura ragazzi io vi invito a ricordare chi in questi anni ha fatto la lotta alla mafia con i fatti chi sta facendo una lotta con i fatti con leggi con provvedimenti alla corruzione chi invece ha all'interno dei suoi partiti corrotti mafiosi indagati per mafia arrestati per mafia persone coinvolte nei blitz di gratteri anti indrangheta giustamente Antonio Gusso scrive oggi il ministro Bonafede ha messo a tacere tante polemiche io temo che non le abbia messe a tacere perché le polemiche prezzolate ci sono ancora e francamente sono molto addolorato di questo e mi sembra veramente penoso e schifoso e drammatico e triste che si attacchi proprio chi della lotta alla mafia e alla corruzione ha fatto il suo tratto distintivo come il Movimento 5 Stelle io vi devo dire una cosa la cosa che più mi dispiace in tutta questa situazione è che c'è all'interno del Movimento stesso l'ho detto tante volte lo ribadisco ma vi ripeto oggi sono un po' giù ho meno energia del solito e quindi vi chiedo scusa in anticipo rispetto alle mie dirette di solito sono più vivace ma ho ricevuto delle pressioni sgradevoli e quando io ricevo delle pressioni sgradevoli sono amareggiato mi sento un po' un po' impotente di fronte a determinate dinamiche che non mi piacciono vi dicevo che la cosa che più mi addolora di tutta questa questione è che ci sono si è creato in qualche modo un incredibile e questo devo dire che è merito di chi ha di chi è riuscito come dire a raccontare le cose in un certo modo merito per me negativo però va riconosciuto a chi ha architettato tutto questo racconto alterato della realtà una grande abilità perché si è riusciti a spaccare il movimento a creare divisioni interne anche nei meetup anche in molti attivisti nostri e a me questo è la cosa che mi addolora di più ci sono persone che in buona fede credono che Di Matteo sia una persona scorretta e non è così persone che in buona fede credono che Alfonso Bonafede sia una persona scorretta e non è così ci sono persone dei nostri che credono che Alfonso Bonafede abbia avuto paura delle dichiarazioni dei mafiosi e per questo non ha nominato Di Matteo e non è così tanto è vero che la chiamata a Di Matteo è arrivata dopo che erano state rese note quelle lamentele dei mafiosi quindi è un falso e sinceramente io sorrido ma dentro di me sono molto amareggiato oggi sorrido perché non è bello mostrare una faccia contrita però dentro di me avrei preferito non farla la diretta oggi sarò sincero avrei preferito dirvi che non la faccio e che lascio per oggi e che magari ne riparliamo domani perché ci sono delle cose che non accetto ci sono delle pressioni che non accetto ci sono delle limitazioni alla libertà di espressione che non accetto anzi direi che forse la cosa più giusta è questa per oggi abbandoniamo qua questa diretta se volete potete condividerla potete ancora potete ancora condividerla nei gruppi commentarla parlarne nelle pagine io per oggi non la faccio la diretta non mi va non me la sento non amo non amo non essere libero quindi per oggi niente diretta ne parliamo domani oppure più tardi se mi sentissi più libero di parlare di tutte le cose di cui voglio parlare vi ringrazio vi saluto e vi do appuntamento ripeto a domani oppure nel caso in cui cambiassero determinate cose a più tardi so che vi dispiace e dispiace tantissimo anche a me vi assicuro a me io ci tengo molto a questo spazio vi prometto che domani risponderò a tutte le vostre domande anche quelle che avreste voluto farmi farmi oggi ci sono delle cose da dire sul bonus edilizia sugli aiuti al pagamento degli stipendi su tante cose però così non mi piace ne parliamo domani ciao grazie a tutti